Ma non esiste più la malattia antica. Ma certo che esiste, anzi è tornata. Che malattia? La TBC. Ah quella del film con la Kidman. Non muore di tubercolosi lei? Sti extracomunitari ecco come. Ma non esiste più. Vabbè possiamo parlare di qualcosa di più allegro? Il Global Fund è il più importante finanziatore mondiale della lotta all'AIDS, tubercolosi e malaria. L'Italia è fra i suoi maggiori donatori e nel 2019 sarà chiamata a rinnovare l'impegno. Non solo per contribuire a sconfiggere queste malattie nei paesi più poveri, ma anche per fermare definitivamente la loro diffusione a livello mondiale. Grazie. 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 Grazie.